Un'intesa triennale è un budget destinato all'emergenza che già nel 2023 passa da 40 a 52 milioni su 104 complessivamente destinati ai trasporti sanitari e che diventeranno 106 milioni nel 2024 e 110 nel 2025. È l'accordo siglato tra Regione Toscana e organizzazioni di volontariato, misericordie, pubblica assistenza e croce rossa sul trasporto sanitario. Un ristoro dunque in crescita che tiene conto dei maggiori costi a causa dell'inflazione e delle turbulenze economiche internazionali per l'acquisto dei carburanti e il rinnovo del parco veicoli, ma che aiuterà a sostenere anche le maggiori spese del personale legata agli adeguamenti contrattuali e a percorsi di stabilizzazione che la Regione intende sostenere assieme alla crescita professionale dei lavoratori. L'adeguamento delle tariffe era atteso da tempo e aveva suscitato non poche polemiche e tensioni. Le associazioni di volontariato svolgono in Toscana un ruolo essenziale, ha sottolineato il presidente Eugenio Gianni, un mondo che conta 550 presidi in tutta la Regione. Con questo accordo, conclude, si accresce considerevolmente l'impegno della Regione sul fronte della spesa per il trasporto di emergenza.